e quel gioiellino che tu hai là dietro parliamone un attimo nasce proprio da un brainstorming esatto anni orsono noi riunimmo una serie di professionisti capitanati dal da nino e dai vostri suggerimenti uniti a alcune conoscenze che ovviamente di illuminazione tecnologia ottica che noi abbiamo insiti nel nostro dna quello gioiellino che tu hai il piacere di aver visto nascere di essere stato uno dei primi ad usare guarda io mi sposto un attimo sposto l'inquadratura così facciamo entrare il giocattolo nella io scusa se chiamo giocattolo ma per me le tecnologie ecco vedi un po li esce fuori il bambino che in me le tecnologie sono tutti i giocattoli e lo dico in maniera bonaria non volendole sminuire sì b75 da questo punto di vista veramente incarna forse lo spirito di tutto quello che ci siamo detti in questa piacevole intervista la voglia di scambiarsi delle idee la voglia di anche ritornare in maniera critica però alle cose del passato che magari non ci piacevano eh sai è facile eh trovare i pregi secondo me è facile trovare i difetti avere il coraggio di analizzarli è la parte più difficile ed è una cosa che a me per esempio quando collaboro con un'azienda tu lo sai benissimo e a volte vengo visto come quello che trova solo i difetti però secondo me è una cosa interessante una cosa che mi motiva tanto eh perché io dei pregi mi sono già innamorato e guarda eh ti faccio un paragone non so se è calzante ma lo faccio uguale secondo me quando incontri la donna della tua vita è uguale incontri la donna della tua vita chiaramente la prima cosa che noti sono i pregi ma ancora non è la donna della tua vita ti sei solo innamorato di una bella donna poi ne scopri i difetti e diventa la tua donna ok o il tuo uomo se sei una donna viceversa quindi eh con questa con questa lampada chiamiamola così che poi in realtà è un concentrato di tecnologia abbiamo fatto all'inizio un brainstorming eh e l'azienda ascoltava bellissima questa cosa no quindi il chirurgo puro che eh volevo una scialitica ma un po' più nuova perfetto io non sono un chirurgo puro sono più un odontoiata che fa anche chirurgia e io invece volevo una lampada tradizionale perché sai come quella che c'è là dietro eh la mia Eva Cam che è più piccolina è più miri o quella che hai anche tu accanto no che è una forse è una Eva o un'Alia? È un'Alia. È un'Alia eh che sono lampade un po' più tradizionali no ce le ricordiamo così le lampade e poi sì innovative con un design rivoluzionario però una lampada del dentale ehm e io magari volevo una lampada con qualcosa in più quindi lì si sono incontrati scontrati diversi mondi e là poi ci vogliono le aziende quelle fantastiche quelle come la Faro le aziende che che captano energie positive anche quando in realtà sembra che si stiano dicendo cose poco belle ma in maniera costruttiva e voi siete stati con le antennine alzate e detto ok bello ci potrebbe essere spazio per una cosa nuova è avvenuto tante volte per esempio una decina di anni fa è avvenuto nel mondo dei cellulari no c'erano degli smartphone diversi e i cellulari e poi è nato l'iPhone adesso non per fare il nome commerciale però è nato così è una cosa nuova che forse non accontentava né un pubblico né l'altro ma ne ha creato un altro nuovo che oggi è sostanzialmente la stragrande maggioranza della della popolazione mondiale b75 nasce così e se la possiamo raccontare un attimo agli amici che ci stanno seguendo io la sto provando da un po' e e sono innamoratissimo della b75 perché perché mi ha dato la possibilità di fare qualcosa che da odontoiatra non avrei fatto ok di spingermi per esempio verso l'utilizzo parziale in parte del mio tempo di un'illuminazione da scialitica quindi molto potente con uno spot molto ampio senza ombre molto uniforme ma veramente forte come luce tanta 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 luce durante per esempio nella mia agenda non so le chirurgie mattinata tradizionale due chirurgie poi magari hai altre cose non so una protesi un moncone eccetera eccetera e e quindi con questo prodotto ibrido semplicemente cliccando la modalità chirurgica io diventavo entravo o meglio portavo una sala l'illuminazione da sala operatoria nella mia stanza il mio regno dove io sono confortevole e tutto il resto del tempo modalità odontoiatrica dentino avevo quello che avevo prima cioè avevo una o una evacam qua dentro con la facilità di ergonomia quindi non l'ergonomia cicciotta un po difficile a volte da scialitica ma quella che il dentista vuole una maniglia è un movimento molto ergonomico no molto facile e questo già mi è piaciuto poi io che sono un amante di tecnologia ho apprezzato anche alcune chicche tipo i controlli a sfioramento che mi sono piaciuti tantissimo il pannello che per me è diventato il pannello di comando delle aso cioè tendenzialmente quando io lavoro sono in questa posizione adesso si è accesa a ore 9 e la mia aso che a ore 12 guarda questo pannello e fa per me tutte le varie manovre mette per esempio la modalità composei quella per i compositi che è attivabile anche quando stai facendo chirurgia bellissima e poi al centro una telecamera 4k che riprende tutto e lì torniamo alla comunicazione perché perché da b75 esattamente riprendendo la filosofia di alia cam di eva cam quindi parlo delle soluzioni quelle con la camera integrata è una lampada dentale ibrida un po scialitica un po lampada tradizionale connessa cioè io la sto già usando nella mia didattica quindi quando la faro mi ha dato la possibilità anche proprio di toccarla e quindi di appagare questo mio senso di veramente di contatto con la tecnologia io l'ho buttata subito nella mia pratica quotidiana e nella mia didattica scorso weekend ho fatto una live surgery dove io ero qua dentro i miei colleghi che guardavano i corsisti erano nella stanza accanto in una sala corsi erano 12 corsisti e io mi sono concentrato solo sul mio intervento avevo un microfono come ora raccontavo le varie cose facevo ed è di 75 tutto quello che illuminava lo mandava con la sua telecamerina in streaming a miei colleghi ma è comunicazione ok oppure a volte quotidianamente come già facevo con eva cam faccio un piccolo video lo faccio vedere al paziente e quindi che dire io ti ho dato due spot li ho dati non a te perché la conosci benissimo su b75 li ho dati ai colleghi che tra l'altro mi piacerebbe cogliere questa occasione per invitare a rimini no invitiamo tutti la tocchiamo tutti con mano ma proprio la tocchiamo vediamo quando era quanto può funzionare bene o male e poi ovviamente per chi vorrà può anche buttare un salto a palermo e venirla a provare anche da me in studio però in fiera magari siamo anche più comodi e spero di averti raccontato le mie impressioni di questa b75 che veramente secondo me sarà sarebbe forse un po troppo dire l'iphone dell'illuminazione no la rivoltura soluzione potrebbe potrebbe rischiare di esserlo però secondo me aprirà proprio una nuova categoria ecco la b75 se dovessi chiedermi adesso faccio un po intervistatore intervistato se dovessi chiedere a me stesso descrivila in veramente 4 5 parole la b75 gioca in un'altra categoria grazie 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 grazie